Che stai facendo? Avete mai fatto un sogno tanto reale da pensare di essere svegli? Mi piace osservare gli schemi ricorrenti della routine quotidiana. C'è molto traffico nell'aria, signori. Per me è un gioco trovare l'ordine nel caos. Dylan, che c'è? Non li hai fermati? Kennedy Tower? Dove è falso, prendi quota! L'altro giorno a lavoro ho fatto un errore. Quello era il mio volo. Io ho quasi ucciso 900 persone. No, tu mi hai salvata. So che ci siamo appena conosciuti, ma eccole... È come se ci conoscessimo da sempre. No, dai! Lo giuro! Non è possibile! Ma non si vedi! È il terzo giorno che succede. Lo so che sembra assurdo, ma continuo a vedere le stesse persone. Fa parte di uno schema ricorrente. Che sta succedendo? Mi stanno capitando delle cose impossibili da spiegare. Esattamente alle 2.22 di ogni giorno. Boom. Lui li vede, continuamente. Ogni cosa è collegata. I tuoi schemi non significano niente. Fermo dove sei! Moriranno delle persone! Che stai facendo? Tutto questo deve finire.